Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è giovedì 7 aprile 2011. Iosè Socrates è l'impero portoghese. Iosè Socrates è il dimensionario capo del governo portoghese. Voi sapete dov'è il Portogallo? Tutto sommato è una nazione territorialmente, geograficamente più piccola dell'Italia. Eppure nel 1400, 1500, 1600, per due o tre secoli Portogallo ebbe un impero di dimensioni faraoniche. Lo vedete cari? Questo è il planisfero e le zone colorate in giallo appartenevano alla Spagna, facevano parte dell'impero spagnolo. E quelle colorate in verde, io mi auguro che voi le possiate vedere, di solito noi vediamo le zone colorate in verde, diciamo, lungo le coste. Quelle facevano parte dell'impero portoghese. Mentre l'impero spagnolo era un impero territoriale, vedete, vedete la Messico, la California, poi giù, 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 l'America centrale, giù, 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 tutta l'America meridionale, l'America delle Ande e poi anche altrove, ovviamente, anche altrove. Invece vedete i portoghesi si fermavano lungo le coste, guardate un po', guardate un po' che stavano dappertutto i portoghesi, a parte la costa brasiliana, i brasiliani, sapete, non parlano lo spagnolo, parlano il portoghese. Vedete, tutto attorno all'Africa c'erano i portoghesi, guardate, guardate, spostatevi, spostatevi verso il Medio Oriente, verso l'Oriente, guardate, guardate, i portoghesi, stavano dappertutto, guardatevi bene i portoghesi, guardate che spettacolo, cari amici, guardate che cos'erano i portoghesi alla fine del 1400, nel 1500, nel 1600 e si può dire che colonie ce ne hanno avute fino all'altro ieri, magari piccoline perché poi gli imperi coloniali si sono sfaldati, va bene, dopo questi due grandi imperi spagnolo e portoghese, poi piano 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 si sono presentati sulla faccia della storia l'impero francese, poi ci fu pure quello olandese, poi ci fu l'impero britannico, l'impero britannico in fin di conti si è chiuso tra il 1945 e il 1960, oggi possiamo dire che abbiamo un impero che assomiglia a quello portoghese nell'impero americano e i portoghesi avevano le basi commerciali, invece gli americani, gli statunitensi hanno le basi aeree, non cambia nulla. Vedete la potenza del Portogallo? Pensate che nel 1494, tramite mediazione pontificia, tra la corona spagnola e la corona portoghese venne siglato il trattato di Tordesillas, 1494 d.C., dove da buoni amici Portogallo e Spagna si spartirono al mondo. La Spagna disse questo qua è la mia zona di influenza e io Spagna rispetto le zone di influenza del Portogallo e viceversa. Eccolo qua, io spero che sia sufficiente, cari, sia sufficiente. Ricordo, guardatelo bene, l'impero portoghese, tutte le coste africane, guardate, le coste asiatiche, guardate, guardate i portoghesi stavano dappertutto, cari amici, dappertutto. Un grande impero, per certi versi assomigliava a quello che in piccolo fu un impero veneziano, anche Venezia aveva un impero fatto come quello portoghese, seppur in piccolo, fondava, occupava i porti dove poteva vendere o comprare le merci. L'impero portoghese era un impero mondiale, un impero mercantile mondiale. Adesso che l'abbiamo ben visto l'impero portoghese, torniamo all'oggi, torniamo all'oggi. Jose Socrates è il presidente, il capo del governo portoghese, mi pare che è dimissionario, sta dimissionario. Il premier Jose Socrates, eccolo qua, vedete, cari amici, il premier Jose Socrates, in Portogallo, soldi dalla Unione Europea o sarà il crack. Domani le cofine, timori di contagio, qui. Ma ora com'è sta facendo qua che dopo la Grecia che si è dovuta far prestare un mare di soldi dall'Unione Europea e dalla Cina, dopo l'Irlanda che pure lei ha bisogno di un mare di soldi e dall'Unione Europea e probabilmente anche lì da Cina, adesso arriva il Portogallo. Prima non lo dicevano per orgoglio, dice no, dicevano no. Però adesso che si è dimesso, Jose Socrates dice se ci abbiamo bisogno. Vedete, ora il Portogallo si è arreso, ci serve il salvataggio Unione Europea, si è arreso. Prima non voleva arrendersi, finché stava a potere, Jose Socrates teneva duro. Poi dopo, quando ha visto che non poteva più tenere duro, che c'era il baradro ormai per il Portogallo, ha dato le dimissioni e ha rivelato la verità. Domani le cofine per salvare il Portogallo ed evitare il contagio al resto della zona euro. Allora, vediamo qualcosina, poi vediamo in che consiste, perché questo video. Adesso che ha dato le dimissioni e non ha più un punto d'onore da difendere, il governo del Portogallo, cioè capriciato da Jose Socrates, ammette che il ricorso agli aiuti dell'Unione Europea è necessario. D'accordo? I danni quasi irreparabili al Paese. Accettare aiuti dall'Unione Europea nella forma di un bel pacco di miliardi può non sembrare un sacrificio, tutt'altro, e invece lo è perché i Paesi costretti a farsi finanziari dell'Europa poi sono obbligati a presentare pesanti programmi di ostilità per garantire il rimborso dei prestiti e questo danneggia politicamente i governi, sia perché l'austerità in sé non ha mai reso popolare nessuno, sia perché questa austerità specifica tutta l'area di un commissariamento da parte di Bruxelles e infatti lo è. Anche la Grecia stava per affondare nel Maregeo e fu costretta a chiedere i soldi dall'Europa, soprattutto dalla Germania, anche dalla Cina. Però l'Unione Europea ha detto, a noi ti imprezziamo i soldi a te governo greco, però tu devi far tirare la cinghia, cioè largheggi troppo caro governo con le pensioni precoci, largheggi troppo in tante spese parassitarie, quindi noi tiriamo i soldi però tu ci fai vedere, carte alla mano, che tiri i cordoni dalla cinghia. Cosa è successo in Grecia? Voi lo sapete? Magari fate finta di non saperlo, magari. Che giovani scesono in piazza dietro fuoco a tutto, in Grecia i giovani non volevano saperne di stringere la cinghia, capito? Invece ha dovuto stringere la cinghia il governo. Papa quando si fa verso l'anarchia è il momento giusto per farti una bella dittatura militare, perché vanno così le storie. Lo diceva pure Platone, eh? Si va dalla demagogia all'anarchia alla dittatura. Perché un governo tu, cioè un paese lo governi bene con le promesse, tu agli elettori gli prometti la luna nel pozzo e loro sono tutti contenti, ti votano. E' così che fanno il meccanismo. E il meccanismo è così. Quando però poi arrivi a quella che si chiama la resa dei ponti, quando arrivi alla resa dei ponti poi sei con le spalle al muro e non puoi più promettere la luna nel pozzo, sennò il paese precipita in un baratro, cioè nell'anarchia. D'accordo? E allora devi chiedere i soldi in prestito agli amici tua e gli amici tua te riprestano i soldi e però tiri la cinghia. Tiri la cinghia. E quando un governo... Infatti si è dimesso Socrate, l'amico nostro Socrate, il poveretto. Si è dimesso. Si è dimesso perché non sapeva che se lui si metteva a fare leggi per tirare la cinghia ai portoghesi succedeva un casino, dice. E allora Socrate ha detto vabbè che lo faccia un altro questo mestiere qua. Lui si è dimesso. Ma è la stessa cosa che sta facendo pure l'ottimo in Spagna l'ottimo Luis Zapatero. L'avete già visto Luis Zapatero? Che ha già detto no, 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 io non ci torno la prossima volta a fare il capo del governo in Spagna. che ci pensi qualcun altro a gestire la situazione finanziaria a Spagna. C'era pure lei un bell'impero, l'impero portoghese, c'era pure la Spagna un bell'impero, un impero coi sciocchi, come si suol dire. E beh, ciutata l'aria, Luis Zapatero, che era la speranza dell'umanità, ciutata l'aria, dice non ci torno più io a far capo del governo, perché qua le cose sono messe male assai in Spagna. E pensare che le cose sono messe male assai in Spagna proprio da quando ci è andato Luis Zapatero a capo del governo spagnolo. Chissà perché quando ci sono i migliori, i migliori a capo di un governo, le cose vanno male, economicamente parlando. Poi invece quando ci sono i peggiori, chissà perché le cose finanziariamente non vanno altrettanto male come quando ci stanno i migliori. E allora uno deve concludere che i migliori acchiappano i voti dilapidando il pubblico erario. Poi gli tocca ai peggiori a mettere a posto la situazione economica. E giù tutti i governati e il popolino che dice maledetti, maledetti, maledetti. Però il popolino non dice ma com'è che l'ottimo Luis Zapatero che non l'ha mai fatto il bunga bunga ha precipitato la Spagna in una situazione disastrata sul piano economico e finanziario al punto che la Spagna ha a livello di disoccupazione generale e specifica giovanile un tasso molto più elevato che l'Italia, dove ci sta quell'infamone di Silvio Berlusconi. Il fatto che i ragazzi non li abitano a scuola a fare i confronti paragoni, capito? Io vorrei fare il discorso perché quando voi vivete in famiglia io lo so quanto è triste e dura la famiglia, d'accordo? Per poter valutare la situazione nella vostra famiglia dovreste andare dentro le famiglie altrui ma con qualche scusa, con la scusa che andate a fare i compiti con il vostro amico, con la vostra amichetta stateci un po' di tempo dentro le famiglie altrui e piano piano vedrete a sapere di quelle cose cari amici per cui direte mamma mia, mamma mia ma io sto meglio nella famiglia mia mamma mia, mamma mia, sto meglio nella famiglia mia mamma mia, da fare i confronti io per esempio, tanto per dire una banalità ieri ho guardato il Tg3, no? perché io guardo, siccome sono pensionato mi posso permettere di guardare prima il Tg3 poi il Tg1 e poi il Tg2 beh, al Tg3 non hanno dedicato un secondo al Giappone ma come il Giappone sta vivendo la più grande tragedia ecologica che l'umanità abbia mai vissuta neanche ai tempi di Hiroshima e Nagasaki c'è fu una tragedia come quella attuale e tutti i G3 che dici che sei tanto democratico non dice una sola parola sul Giappone ma come tutti i G3 che dovresti essere vicino alle istanze ecologistiche vivi manca un minuto la Bianca Bellinguer ma quante volte te lo devo dire che devi dedicare più spazio a quello che accade nel mondo e non stare sempre lì concentrata concentrata sul Parlamento italiano che ormai ci hai rotto i cosi come si chiamano lì gli attributi ci hai rotto anche lì alle questioni libiche ma come c'è una guerra in corso mi pare che ci hai dedicato un paio di minuti ieri ma che direttore di un Tg3 democratico sai male manca un minuto ci hai dedicato sei sì non c'eri tu Bianca Bellinguer ieri sera ieri sera non c'eri c'erano altri ma il direttore sei tu il direttore perché non hai dedicato neanche un minuto al Giappone ma che dico ma manco tre secondi niente è sparito il Giappone tutta concentrata lì sulle questioni in Parlamento al bunga bunga di come si chiama quella gretina di cosa lì di seduttrice come si chiama la rubacuori ma andiamo pettevolezzi ma fai un quadro generale della situazione mondiale che basta poco per sviluppare le menti dei giovani non stare sempre lì concentrata dunque mi viene da dire che il Tg3 si comporta come il Tg1 solo che il Tg1 è più ingenuo le cose le fa stupidamente invece il Tg3 fa politica ma la fa da furba il Tg3 la fa da furba e sono più furbi sono perché si capisce dalla quantità di notizie che dai che distribuisce si capisce subito qual è l'orientamento e si capisce subito che il Tg3 fa la stessa politica del Tg1 e il Tg1 tira per il centrodestra e il Tg3 tira per il centrosinistra solo che il direttore la Minzolini è un ingenuo lo fa capire che tira per il centrodestra e invece la Bianca Berlinguer che viene da una scuola politica interessante furba non lo fa capire non lo fa capire ma si capisce lo stesso dalla distribuzione delle notizie ma smettilo lì col bunga bunga con questa cosa con questa marocchina qua ma smettiamola ma occupati delle cose importanti Bianca Berlinguerini non hai dedicato neanche 30 secondi 3 secondi al Giappone che vergogna che vergogna e che hai lasciato a bocca asciutta a tutti gli ecologisti e gli antinuclearisti italiani vergogna vergogna allora i giovani se non ve le dice la Dino Massoni queste cose ma chi ve le dice dirà mai capito la famiglia no? quando voi state male in famiglia in famiglia si sta male cari eh si sta tanto male cari in famiglia eh io l'ho spiegato qua nella stile questo romanzo storico mitologico la stile del serpente che che la famiglia monogamica patriarcale è una invenzione orribile 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 è come la bomba atomica ormai è inventata ce la teniamo e però per sopportare ogni ragazzo per sopportare meglio la propria famiglia monogamica patriarcale è bene che conosca altre famiglie monogamiche patriarcale capito? almeno fai i confronti fai i confronti andate a fare i compitini con i vostri amichetti stateci il più lungo possibile in altre famiglie e piano piano vorrete sapere di quelle cose di quelle cose per cui direte appunto come vi ho detto prima ah famiglia mia famiglia mia io sto meglio con te famiglia mia e allora qua ma che mica si danno queste notizie qua ma che si qua c'è in prima pagina ma piccolo 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 poi i tg manco ne parlano i tg qua eccolo qua qua si parla ruby ruby eccola qua c'è ruby anche qua la stampa odierna prima pagina grossa notizia guardate qua la distribuzione della notizia prima ruby prima udienza poi invece su questa cosa che è molto più diciamo carica di significati notizia piccolina vedete poi però guardate qua ruby ruby ma allora ci sarebbe da dire se ruby è tanto importante per gli italiani c'è da chiedersi come mai come mai Luisa Patero e lì come si chiama José Socrates senza bunga bunga senza ruby abbiano precipitato Spagna e Portogallo in una crisi finanziaria epocale e se noi conosciamo le altre famiglie cioè le vicende degli altri paesi possiamo anche valutare meglio le vicende del nostro paese ma se stiamo sempre lì col microscopio sulle vicende del nostro paese e non conosciamo le vicende degli altri paesi noi non saremmo mai capace di valutare oggettivamente quello che avviene nel nostro paese e io invito sempre i giovani a chiedersi come mai l'ottimo il meraviglioso Luisa Zapatero che è l'attuale capo del governo in Spagna che c'è da 2, 3, 4 anni che è stato appalaudito da tutti da tutti e adesso col suo governo la Spagna si è precipitata una crisi finanziaria colossale per cui lo stesso Luisa Zapatero consapevole che il prossimo governo dovrà chiedere agli spagnoli di tirare la cinchia ha già detto no io non mi ripresento per le prossime elezioni per fare i premi no 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 che ci pensi il prossimo a chiedere agli spagnoli di tirare la cinchia giovani riflettiamo per quale motivo José Socrates e Portogallo soldi dall'Unione Europea o sarà il crack e perché mica nessuno ci ha mai detto che José Socrates c'ha il bunga bunga c'ha tutte queste cose eppure com'è che Spagna Portogallo Grecia Irlanda com'è che sono in situazione di bancarotta cioè degli stati che sono in situazione di bancarotta per cui se questi stati non vengono aiutati da stati più potenti economicamente vedi Germania vedi la Cina ci saranno delle proteste terribili quando i prossimi governi chiederanno di tirare la ciglia ci saranno proteste interminabili per cui per non cadere nell'anarchia dovranno arrivare i militari e dalle sommosse poi si passa alla dittatura militare perché le vicende storiche ci dicono questo l'aveva già detto Platone nel suo dialogo della Repubblica che le dittature nascono proprio quando si cade dalla demagogia si cade nell'anarchia allora c'è un gruppo potente che prende il potere capito cari amici allora io vi consiglierei cari amici di seguire questo mio consiglio siccome voi siete quasi tutti avete quasi tutti un bel personal computer e potete navigare su web al mattino date un'occhiatina per esempio a quello che che dice guardate solo i titoli per esempio e la l'agenzia stampa ANSA o l'agenzia stampa ADN Kronos e oppure date un'occhiatina a quello che dicono che sono i giornali i giornali francesi principali o i giornali tedeschi principali io non lo so magari ci sono le copie tradotte in lingua italiana e provate a vedere voi se i giornali portoghesi spagnoli o greci si interessano del nostro bunga bunga o se si interessano dei debiti dei loro paesi bisogna cari amici aprire le menti per valutare chi siamo noi dobbiamo conoscere gli altri per valutare meglio la situazione nella nostra famiglia dobbiamo conoscere altre famiglie per valutare meglio gli eventi che accadono nel nostro paese dobbiamo conoscere gli eventi che accadono in altri paesi confrontare fare i confronti e chiedersi ma perché e e luise zapatero che era un gran buon padre di famiglia che non faceva i balletti ma perché lui come capo del governo buon padre di famiglia sul piano morale inercepibile ma com'è che lui capo del governo col suo governo la spagna è precipitata a fondo economicamente parlando e poi dovete chiedervi ma com'è che iosè socrates anche lui capo del governo del portogallo ottimo padre di famiglia mai fatto bunga bunga mai avuto rapporti con rubacuori com'è che ha precipitato il portogallo dice se no sarà il crack soldi dalla UE o sarà il crack e poi in pagina interna andate a leggere l'articolo ma c'è su tutti i giornali c'è non so poi come ne parlerà per esempio la repubblica la repubblica non lo so come ne parlerà o come ne parlerà l'unità della simpatica direttrice concita de gregorio la quale concita de gregorio guardate che voglio aprirvi le menti e ve l'ho già rivelato che concita de gregorio spara a zero contro il cavaliere però per la casa editrice del cavaliere che è la fondatori ha già pubblicato quattro libri gli dite ma com'è che concita io compro l'unità l'unità vedo che l'unità spara a zero contro il cavaliere poi però c'è Serafino Masoni che mi informa che concita de gregorio che è direttore dell'unità i suoi libri deve pubblicare non per le case editrici di sinistra ma per le case editrici di destra cioè per i mondatori ma che storia è mai questa ma è proprio vero che tra il dire il fare c'è di mezzo al mare come si fa a credere per esempio a concita de gregorio che beh ma concita de gregorio io ve l'ho già detto che è figlia professionale dell'ex direttore della repubblica come si chiama padre bianco padre bianco che non mi ricordo il nome tanto tanto non lo posso vedere anche lui il padre bianco quello che ha fondato la repubblica e che l'ha diretta per tanti anni ancora ci continua a scrivere padre bianco no il bianco padre il bianco padre e il papa di roma e lui il padre bianco e pure lui un cavolo di gianni come di gianni che proprio lapsus lapsus mentis lapsus mentis e amnesia amnesia e freuter queste amnesie le spiegano la sua celeberima opera una celeberima opera una celeberima opera che è intitolata psicopatologia della vita quotidiana dove parla dei lapsus dove parla delle amnesie dove parla di tutte queste cosucce qua e beh è stato lui che ha insegnato a concita di gregorio e e la doppiezza la doppiezza perché anche lui il padre bianco e e sparava zero contro il cavaliere però pubblicava pure lui del cavaliere andate a vedere quanti libri questo padre bianco di cui non mi ricordo il nome il cognome e andate a vedere quanti libri voi lo sapete avete già capito che e quanti libri ha pubblicato per la casa editrice del cavaliere e e quindi vedete vedete vengono le notizie non vi vengono date come dire in maniera oggettiva no vi vengono date così a secondo della dell'appartenenza politica io le chiamo queste qua una sorta di bande armate che non si fanno la guerra col Kalash Kalashkinov e no neanche con se fanno la guerra con gli articoli giornalistici o con gli articoli televisivi e ti ripeto il Tg3 mi dispiace dire queste cose il Tg3 ieri sera non ha dato una sola notizia un solo secondo al Giappone e il Tg2 il Tg2 che inizia alle 20 e 30 io sono rimasto a bocca asciutta al Tg2 perché poi il Tg2 hanno dato solo il programma poi chiudiamo perché c'è la partita però nel programma ti hanno dato cioè nell'elenco degli articoli ti hanno dato un articolone una notizia grossa così sul Giappone il Tg2 perché fanno una fatica quelli del Tg3 a parlare del Giappone che è una cosa incredibile e fanno fatica pure a parlare della Libia degli eventi libici e si vede che hanno una coda di paglia grossa così se non parlano mai degli eventi libici quelli del Tg3 fanno una fatica voi del Tg3 a parlare di quello che avviene in Libia ecco cari amici aprite le menti cari amici e lo scopo di questo di questa mia piccola tv pubblica è proprio quella di aprire le menti capito e capito il concito di Gregorio di direttore dell'umità che fu fondato da Antonio Granci spara a zero contro il cavaliere eppure le sue opere ne ha pubblicati 4 romanzi per il cavaliere e pensare che di case editrici di sinistra ce ne sono un'infinità di sinistra o che dicono di essere di sinistra c'è la Fettinelli e pubblica per la Fettinelli non proprio per il cavaliere d'accordo? e pubblica per ci sono gli editori riuniti e pubblica per no proprio per la casa editrice del cavaliere ma è possibile che nessuno glielo dica lì quando c'è ecco Ballarò quando c'è anno zero che tempo che fa che c'è sempre lei la Concitta di Gregorio fa la presenzialista c'è sempre lei che nessuno glielo dica ma com'è che tu Concitta di Gregorio spari a zero contro il cavaliere eppure c'è per la casa editrice del cavaliere che è l'ammondatore ci hai pubblicato 4 libri ma com'è sta storia qua? eh? ma che ti vai ti vai a servire da due mulini? eh? allora che fai? prendi per il di dietro i tuoi lettori? eh? com'è sta faccenda? c'è tante case editrice vedete cari? uuuuuh ma che teatrino che è? sì è il teatrino della politica non ci andate a teatro cari amici non c'è bisogno di spendere i soldi per ridere basta guardare qua i burattini della politica capito? capito cari amici pensate voi vedete? e con citta di Gregorio direttore dell'unità il quotidiano fondato da Antonio Gramsci che spara a zero contro il cavaliere poi va a pubblicare i libri presso la casa editrice del cavaliere l'ammondatore pensate un po' voi quale coerenza quale fermezza morale pensate un po' voi che roba uau amici mia vabbè vabbè cari amici ecco qua vedete cari oggi vedete le zone tutte le zone costiere in verde erano nel portogallo cari guardate che bella cartina geografica mentre le zone dipinte in giallo vedete entrano in l'inferroterra se sono nella Spagna quelle dipinte in verde vedete che sono sottili sottili lungo tutte le coste dell'Africa guardate l'Asia guardate il Brasile guardate che spettacolo o c'è l'impero portoghese è ridotto così Giuseppe Socrates, un piccolo articolo, tanto sono più importanti le notizie su Bunga Bunga di questa qua. Portogallo, soldi dall'Unione Europea o sarà il crack? Dentro a pagina 20, 30, 40 è un articolo che specifica la situazione del Portogallo. Cari amici, io se siete giovani, io lo so che avete problemi in famiglia, tutto, è inevitabile non avere problemi in famiglia, d'accordo? Per soffrire di meno, però, cercate di verificare come stanno i vostri compagni e le loro famiglie. E così voi, se volete davvero sapere come vanno le cose in Italia, dovete informarvi su come vanno le cose altrove. Perché non ve lo dicono, non ve lo dicono come vanno le cose altrove, capito? Per fortuna che in Italia c'è questa piccola tv pubblica di Serafino Massoni, che vi spiega come dovete fare per aprire le menti, per fare i confronti. Eh, l'ho detto ieri, e quelli della sinistra, se vogliono conquistare la fiducia dell'elettorato, devono fare qualcosa di concreto e non limitarsi a parlare, solo a parlare e a dire dimettiti, 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 torna a casa, è una vergogna. Qualcosa di concreto, e qualcosa di concreto riguarda i costi vergognosi di quella che è stata chiamata la casta politica, perché anche quelli della sinistra che dicono che sono i buoni, i puri, anche loro hanno la stessa paga dei malvagi della destra. Chi sa perché, chi sa perché, chi sa perché. E chi sa perché, l'ottimo poeta Nichi Vendola, governatore delle lontane Puglie, protettore degli operai metalmeccanici, si prende a 15.000 euro al mese dalle casse erariali, mentre i suoi protetti operai metalmeccanici delle catene di montaggio, invece di prendersi come lui 15.000 euro al mese, debbano accontentarsi di 1.200 euro al mese, magari con moglie e figli a carico. Nichi Vendola, concludiamo questo video parlando di Nichi Vendola, l'uomo più buono d'Italia. Va bene, cari amici? Aprire le menti, cari amici, aprire le menti! Grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.